Siamo al termine di Sarzana contro Camaiore, seconda giornata di Coppa Italia per la Serie 2, siamo con Alessandro Ungheri che questa sera ha segnato due dei tre gol che hanno portato la squadra a una partita giocata in maniera combattutissima contro un Camaiore che adesso è in testa la classifica, un Sarzana che però questa sera ha dimostrato di non avere molto da invidiare a una squadra del genere. Qual è il tuo commento sulla partita che è terminata 4-3? Fine primo tempo 1-0 per il Sarzana, poi fine partita 4-3 il commento di Alessandro Ungheri. Secondo me questa sera abbiamo dimostrato che comunque abbiamo un valore, che non siamo tanto distanti da una squadra che comunque vuole andare in A1 e dobbiamo continuare così perché appunto abbiamo dimostrato che le cose le sappiamo fare, è peccato per il risultato ma sono situazioni che nella partita possono essere fatali e è finita così. Però appunto abbiamo dimostrato che possiamo fare qualcosa in questo campionato. Assolutamente, gran merito per quel che abbiamo visto questa sera, sia agli attaccanti che hanno tirato da ovunque, hanno segnato da ovunque, da entrambe le parti e ai miracoli dei due, tre portieri che abbiamo visto questa sera. Ora il Sarzana avrà una settimana di tempo in più rispetto alle altre squadre, visto che il prossimo turno i rossoneri saranno fermi per prepararsi al Prato. Sicuramente una partita difficile contro una squadra ostica e in una pista molto ostica. Sì, giocare là non è mai semplice ma noi cercheremo di allenarci al meglio e di arrivare più preparati possibile per dimostrare ancora una volta il nostro valore.